Le mie sensazioni sono davvero molto positive, sono contento di essere arrivato qui dopo un anno abbastanza particolare per me. Ripartire da una piazza come questa è molto stimolante, quindi sono davvero molto contento e non vedo l'ora di iniziare con i miei nuovi compagni. Negli ultimi due anni d'Inghilterra sono cresciuto molto a livello umano, mi sono formato tantissimo caratterialmente perché comunque sono arrivato in un ambiente completamente diverso, cultura diversa, lingua diversa, abitudini diverse, quindi sicuramente non è stato facile, ma è stata un'esperienza molto positiva che mi ha aiutato tanto a crescere, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista calcistico. Ma degli interessi della Roma l'avevo saputo già da tempo, però c'erano ancora delle cose che si dovevano aggiustare e anche con il Chelsea, quindi non c'era mai stata la certezza che si potesse fare la cosa. Non ho dubitato nemmeno un secondo perché per me è una grossa occasione, come ho detto prima, e voglio dare tanto per questi colori a partire da domani. Ma sicuramente è stato importante per Draghi perché lo conosco dai anni del Torino, so che tipo di persona è, so quanto ci tiene e quanta passione ci mette ed è una cosa sicuramente che ha condizionato la mia scelta, ma indipendentemente da lui comunque c'era l'interesse della Roma, di una grande società, una società nella quale si può fare bene, composta da ragazzi giovani, ci sono tutti i presupposti per far bene, quindi non c'era alcun motivo per dubitare sulla mia scelta finale. Ho avuto modo di parlare dieci minuti con il mister prima a pranzo e mi sono presentato anche nuovi compagni e niente, ho sentito parlare molto bene di lui e non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Come detto prima, mi hanno parlato tante persone molto bene di lui, mi hanno detto che è un grande lavoratore, con le idee chiare, che è un grosso motivatore, quindi non vedo l'ora di cominciare. Sì, tersini che giocano alti, diciamo che potrebbe essere un'arma a mio favore, anche se comunque è molto importante anche la fase difensiva, soprattutto quando si gioca a quattro, però sicuramente potrebbe essere un'arma in più, essendo magari abituato a spingere molto, sicuramente è una cosa che mi permetterà di esprimermi nel mio meglio. Nella Roma si sta creando un blocco azzurro e penso che sia una cosa molto importante anche per il calcio italiano, ma soprattutto per la Roma, perché comunque si parla di una società italiana ed è bello quando lo zocculo duro è composto da ragazzi giovani italiani e penso che sia una cosa importante anche in vista degli europei che sempre più giovani possano cominciare ad esprimersi, a giocare in club così importanti. Con il Celso ho avuto l'opportunità di giocare contro la Roma e purtroppo per noi non sono state delle grandi partite. Ricordo del tifo asfissiante, dei tifosi romanisti allo Stamford Bridge quasi a coprire, se non totalmente a coprire comunque i nostri tifosi di casa, quindi diciamo che i tifosi mi hanno colpito molto e poi vabbè qui all'Olimpico comunque l'atmosfera era pazzesca e penso che debba essere davvero molto emozionante giocare con una cornice di pubblico del genere. I miei primi gol in Serie A sia con la maglia dell'Atalanta che con la maglia del Torino sono stati contro il Genova e spero sia di buon aspicio per questo inizio di campionato. Potrebbe essere davvero un sogno iniziare così con un gol nel migliore dei modi, ma penso che comunque la cosa più importante sia partire bene tutti insieme e centrare l'obiettivo principale che è quello dei tre punti. Una promessa che sento di poter fare ai tifosi è che dal primo giorno partendo da adesso ogni allenamento, ogni partita sicuramente uscirò dal campo completamente estremato. Ho tanta voglia di ripartire diciamo perché sono stato un anno fermo quindi posso assicurare che l'impegno e la voglia di onorare la maglia non mancherà mai e cercherò di dare il 100% a partire da ogni sessione di allenamento fino ad arrivare alle partite. Grazie